Grande preoccupazione nel settore sanità della Granda. Al centro dell'attenzione sono gli ospedali di Fossano e Ceva. Per quanto riguarda il primo, infatti, tra maggio e giugno sarà nominato il nuovo direttore generale. Proprio per tale periodo, pochi giorni fa, Mario Raviolo, responsabile provinciale del 118, ha inoltrato all'amministrazione sanitaria la richiesta di eliminare i medici che ad oggi fanno i turni per garantire il servizio di emergenza. Una scelta che si traduce in una lenta morte dell'ospedale di Fossano, che da anni vive sospeso tra carenza di personale e reparti ridimensionati. Il commissario dell'Asle Cuneo 1 e Asle Cuneo 2, Giovanni Monchiero, ha dichiarato di sperare che la decisione di Raviolo non comporti la chiusura totale della struttura. Tale scelta, ha sottolineato Monchiero, dovrà essere presa dal nuovo direttore generale. Ad oggi i passaggi al pronto soccorso sono in media 8 al giorno e soprattutto con codice verde, quindi quasi sempre curabili dal medico di base. Un'inattività dovuta forse anche alla rassegnazione dei fossanesi, che già da tempo si rivolgono ad altre strutture per i loro problemi, come se già l'ospedale non ci fosse più. Situazione grave anche a Ceva, dove anche il pronto soccorso sembrerebbe rischiare la chiusura. La situazione dell'ospedale di San Bernardino è infatti simile a quella di Fossano. Monchiero ha spiegato, come da tempo, sono gli stessi medici del 118 che a turno garantiscono il servizio d'urgenza. Tuttavia resta una differenza fondamentale. Il pronto soccorso di Ceva, infatti, conta ogni giorno numerosi pazienti, perché serve non solo alla cittadina, ma all'intera vallata. E la vicinanza all'autostrada Torino-Savona lo rende un punto di appoggio importante. Ancora qualche settimana e si vedrà.